buongiorno oggi siamo a modena raduno Porsche mania siamo arrivati ci sono un bel po di mezzi oggi e tante milf e tante novità abbiamo carrerini di ogni genere abbiamo 992 per i futuristi c'è questa bellissima Taycan è uno spettacolo con i cerchi oro mi fa impazzire ha dei carbo veramente che ormai coprono l'intero cerchio tutendo per ora non sta piovendo quindi siamo fortunati siamo un bel gruppo siamo una trentina di macchine c'è un po di tutto c'è un po di tutto speriamo che il tempo tenga dovrebbe aprirsi però almeno non piove a dirotto insomma comunque ci vediamo presto e buona giornata a tutti ad uno Porsche mania siamo in fase press briefing gasati gasati bella questa 986 s bella ci piace una turbona con i cerchi odds e qua abbiamo una targhetta bella questa lucidata diventa uno spettacolo caimanino con un po di distanziali qua abbiamo quella che piace tanto gli aspirati purtroppo il colore marrona la marrona c'è chi piace chi non piace però l'abbinata marrona più interno beige diciamo è elegante non c'è un cazzo da dire cioè assolutamente andiamo avanti qui abbiamo una gt3 no gt2 pezzo raro pezzo rarissimo gt2 bella bellissima siamo al centro Porsche Modena e qua c'è un po di tutto ragazzi c'è un po di tutto guardate il colore di questa 986 c'è assolutamente arrerino tutte aspirate non ci abbiamo un mk2 tutte aspirate oggi non abbiamo un mk2 guardate gli interni di questa 718 e qua siamo qua ragazzi buon sabato il meteo speriamo speriamo tenga insomma ciao tutte di punta tutte di punta sgasiamo al museo pagani che spettacolo guarda là prima tappa del raduno siamo al museo pagani non piove e quindi questo è già un successo inizierà la visita guidata arrivano le ultime macchine che parcheggiano vediamo se Orazio viene a salutarci magari ci offre il caffè siamo con il gruppo Porsche Mania eccolo qua che organizzano sempre dei raduni fantastici arrivano e siamo qua Orazio viene a prendere il caffè un promenato proviamo naggia viene viene ci vediamo dentro raduno Porsche Mania entriamo nel museo pagani in attesa di iniziare il percorso vi faccio vedere lo showroom abbiamo la prima parte dedicata allo shop dove si possono togliere diversi sfizi abbiamo la serie modellini è qui abbiamo assolutamente la zona configuratore dove poche persone riescono ad entrare zona meeting tutto è iniziato tutto è iniziato fantastico ecco siamo arrivati al pranzo raduno Porsche Mania ragazzi da non credere c'è un sole che spacca le pietre assolutamente adesso guardate che line up di auto che abbiamo spettacolare qui abbiamo di tutto di tutto oggi veramente non manca nessun modello abbiamo anche due Taycan Turbo S spettacolari ragazzi incredibile c'è di tutto adesso vado a mangiare e vediamo vediamo settimana prossima che bomba organizziamo ciao